Bene, eccoci qua, un'altra vigilia molto importante. Domani incontreremo l'Enel Brindisi, è una partita importante perché per noi vale 4 punti. Dopo aver raggiunto il primo obiettivo stagionale delle top sistina, adesso dobbiamo assolutamente fare di tutto per raggiungere il nostro grande obiettivo, il secondo, che è quello della salvezza. Quindi è una diretta concorrente, quindi è una partita molto difficile, molto importante, dove ci vorrà la giusta mentalità. I ragazzi lo sanno, ci vorrà una grande partita di attenzione, di grande coinvolgimento difensivo e il nostro grande pubblico, come sempre, è al nostro fianco per raggiungere un alto dei nostri obiettivi.